Ed ora è il momento del primo ed unico incontro di arti marziali miste MMA del programma della serata. Chiamiamo sul ring l'arbitro il signor Raffaele Claudio Lomeni di Roma per la categoria 72 kg e 500. Chiamiamo sul ring l'arbitro il primo protagonista, all'anno blu, da Posto Frone, Alessandro Giovamelli. Alessandro Giovamelli. E il suo avversario, all'anno rosso, da Roma, Fabio Ciolli. E il suo avversario, all'anno rosso, da Roma, Fabio Ciolli. E il suo avversario, all'anno rosso, da Roma. E il suo avversario, all'anno rosso, da Roma, Fabio Ciolli. Siamo finiti, riscontri di nuovo, che sono mio, che sono io. Siamo finiti, riscontri di nuovo, 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 che sono io. Bravo Rocco! Bravo Rocco! È la prima ripresa. Tieni sulla gamba, la gamba destra, tieni sulla gamba destra. Siamo finiti. Vieni la gamba, vieni la gamba. 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 Sto dietro, sti dietro, blocca, 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 spingi, vai, bravo, bravo, stieni la gamba, stieni la gamba, gamba destra lì, bravo, 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 così, con gamba destra, con gamba, prendi il tempo che ti sa, come guarda, vieni l'opposizione, scherzo, scherzo, bravo, 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 tra lì, bravo, 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 Tieni su la gamba destra, per non far prendere la moto, tienilo così, senza fare fatica, tienilo lì, tienilo lì, no, blocca al piede, spingi avanti, spingi, spingi così l'occhio. Spingi così l'occhio, vai, vi bloccavi il piede destro, tienilo eh, prima blocca, tienilo adesso, tienilo lì, tienilo lì, tienilo lì, tienilo lì, tienilo, un minuto scarso. Un minuto, un minuto, proprio. Si libera la spingia avanti, bravo, si libera avanti, conci l'acqua, e poi blocca al piede. dai le 40 secondi libera 10 secondi 30 secondi ricordate la posizione, su, ricordate la posizione al centro del ring 15 secondi 10 secondi 10 secondi 10 secondi 10 secondi 10 secondi 10 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti